Giorgio hai visto? È un brutto tempo della madonna, abbiamo trovato anche della gente con gli ombrelli, hai visto? Porca miseria, guarda Giorgio, se lo sapevo prendevo l'antiacqua, se ti dà voretta. Peccato, mi sono preso l'abbronzante stavolta. Grazie a tutti. Tanto qui è tutta dritta, fino a su in cima, cioè non ci sono strade di traverso. Ah, non avevo il controllo di trazione, ho visto che mi è andata via la ruota. Eh, qui c'è della ghiaina, bisogna stare attenti, perché non è quel fondo bello liscio. Sì, è quell'asfalto un pochino con quella sabbiolina. Eh, sono ghiaiette, infatti Diobono c'è, che mi sta tirando dei sassi a ruota di collo. Chi? Giulianini.